All'inizio era un sogno e pian piano le persone mi hanno spinto a capire che poteva essere un progetto molto molto grosso. Il progetto è creare delle salse che possano trasmettere un po' la cultura mexicana del peperoncino. Io la vedo come una microfabrica in cui produco le salse. Gerardo Sanchez è uno dei dieci imprenditori scelti e supportati dal progetto Future, il programma del Ministero del Lavoro promosso da Union Camere che assiste gli stranieri che vogliono avviare un'impresa in Italia. Avviato in via sperimentale nel 2019 è ora la seconda edizione. Nato con l'obiettivo di contribuire alla crescita occupazionale supportando l'integrazione degli cittadini stranieri in Italia superando gli ostacoli della burocrazia. Avevo tutte le idee un po' sparse e evidentemente loro mi hanno aiutato a ingranare tutto dal punto di vista burocratico, economico, amministrativo, finanziario e business plan. La seconda edizione prevede nei prossimi due anni il coinvolgimento di un numero ridotto di Camere di Commercio e per l'ente camerale torinese la copertura dell'intero territorio piemontese. Un'opportunità per Torino che guida la classifica delle città italiane con più imprese straniere. Al terzo posto dopo Roma e Milano. Abbiamo 31.000 aziende quindi il 14% delle aziende straniere in Italia sono qui a Torino e in Piemonte. Abbiamo delle forti comunità straniere come la Romania, il Marocco, anche l'Albania. Quindi è una parte dell'economia del territorio che sta crescendo e tra l'altro sono le imprese che crescono di più rispetto anche a quelle italiane. Quindi come tasso di crescita sono cresciute del 38% in 10 anni. Crescono tutti i settori, in particolare l'edilizia e i servizi turistici.